oggi parliamo di Vittorio Zanetti ed è la sua incredibile avventura con Poké la realtà che ha portato questa tradizionale più fanza a Waitana in Italia e nel resto del mondo Vittorio Zanetti nasce nel 1991 ed è la fondatrice ed executive director di Poké un brand di ristorazione che ha aperto ben 105 punti vendita in sette paesi del mondo in meno di quattro anni con un saturato di oltre 40 milioni di euro nel 2000 Zanetti durante i suoi studi in relazioni internazionali Vittorio si innamorò delle Poké House sulle spiagge della West Coast dove i surfers si ritrovavano a mangiare dopo le giornate tra le onde e lì iniziò il suo viaggio Attualmente Poké House conta più di 160 house tra Italia, Spagna, Romania, Portogallo, Francia, Regno Unito e ovviamente gli Stati Uniti L'azienda è stata fondata a Milano nel 2018 da Vittorio Zanetti assieme a Matteo Picchi Matteo Picchi era, oltre al confondatore di Poké House, aveva precedentemente esperienza con Fudinio e Glovo prima di lanciarsi in questa avventura assieme a Vittoria è stata proprio loro l'idea di realizzare tutte le ricette personalizzate Tutti gli ingredienti e tutte le ricette di Poké House infatti sono unici e la personalizzazione è ciò che li contraddistingue fin dall'inizio Come abbiamo già detto Poké House è stata fondata a Milano nel 2018 ma ha stretto fin da subito un'operazione commerciale con Swissfin, azienda alimentare nata l'anno prima a Santa Monica che ha importato per prima negli Stati Uniti il Poké hawaiano Poké House ha aperto punti vendita in ben 7 paesi del mondo diventando un brand di ristorazione di valore con un fatturato di oltre 40 milioni di euro nel 2021 Durante la crisi del coronavirus l'azienda è comunque riuscita a crescere dimostrando resilienza e adattabilità portando casa per casa la loro novità delle Poké House con l'Away & Taste Se vi interessa scoprire altro sul mondo dell'imprenditoria giovanile e su Vittoria seguite i nostri altri canali oltre quello YouTube c'è LinkedIn, Spotify e potete trovare tutti i nostri articoli e video sul nostro sito www.versusleones.it Ciao e alla prossima puntata